Prima di prendere questa decisione ho riflettuto a lungo, molto a lungo, come ho scritto nel post, sofferta, però dovevo farlo, dovevo farlo, non mi ci ritrovo più in questa Lega. Non è stato un passo facile, non lo nega Vanda Pellizzari, uno dei volti della Lega a Padova, perché dietro il suo sorriso aperto si nasconde una leonessa come il suo segno zodiacale. Consigliera comunale per due mandati nella lista Bitonci, dal 2014 al 2016 e dal 2017 al 2022, Vanda Pellizzari è la voce dei commercianti del centro città. Dopo aver rinnovato la tessera per il 2024 ha deciso e firmato le sue dimissioni, un grande amore al suo racconta. Ho fatto migliaia di banchetti, credo che sulla colonna di Piazza dei Frutti mi metteranno una targa per quanti banchetti ho fatto. Ho raccolto migliaia di firme, sono stata anche nominata da una persona che conta, la detentrice del maggior numero di firme raccolte, perché quando c'era bisogno di raccogliere le firme i cittadini manco mi chiedevano perché chiedevo la loro firma, tanta era la loro fiducia. Per cui tanto ho camminato, tanto, tanto, ho fatto banchetti, ho fatto la donna sandwich, ci ho sempre creduto e ci ho creduto tanto nella Lega. Adesso che cosa è che non la convince più? Quali sono le cose che l'hanno convinta a fare questo passo? Manca, a mio giudizio, lo stare insieme, il parlare, il trasmettere quelle che sono le idee, le opinioni, i programmi. Ha lottato anche nell'ultimo anno e mezzo, quando la Lega Veneta monolitica aveva presentato più di qualche crepa, il congresso provinciale del 2022, l'elezione di Alberto Stefani e segretario regionale con l'assenza di Roberto Marcato, l'ingresso in Forza Italia di un altro storico militante, Fabrizio Boron. Tanti cittadini che le hanno fatto sentire la loro solidarietà, silenzio dei vertici del partito, almeno per ora. Altri partiti alla finestra? Non ho bisogno di passare in altri partiti, io resto sempre Vanda Pellizzari, addirittura mi è stato detto non serve dire Vanda Pellizzari, basta dire solo Vanda e questo non l'ho detto io, ma me lo dicono gli altri, quindi io ce l'ho il mio lavoro.